Il Museo Botanico a cielo aperto di Villa Erba dalla prossima primavera diventerà parte integrante dell'offerta turistica di Cernobbio. Grandi Giardini Italiani propone infatti una novità nel calendario degli eventi, una serie di aperture straordinarie del parco della villa. La storica dimora aprirà il giardino ai visitatori con passeggiate a tema e visite guidate lungo i viali all'ombra degli alberi secolari, tra i cespugli fioriti lungo le rive del lago. Da ammirare molte specie di alberi, platani, faggi, il cedro dell'Himalaya, il cipresso delle paludi e il ginkgo biloba. A partire da mercoledì 27 marzo inizia un viaggio fatto di atmosfere e di percorsi sensoriali per scoprire uno dei luoghi più affascinanti del lago di Como. Il parco della villa rimarrà aperto e visitabile dalle ore 10 alle ore 18, dal 27 al 31 marzo, dal 22 al 28 aprile e dal 23 al 24 luglio. Il costo del biglietto è di 6,50 euro con la possibilità di visite guidate per i gruppi inviando una mail a info at grandigiardini.it. Il costo comprensivo di guida è di 12,50 euro.